Ci troviamo in via nazionale al Civico 104, qui in uno dei negozi storici di Firenze che è in vita da 54 anni. Con noi c'è il titolare Simone Stellini che ci racconta un po' la sua storia, quelli che sono i disagi di questa via e che poi purtroppo hanno portato a decidere di chiudere l'attività. Per quale motivo? L'attività è aperta da oltre 50 anni e negli ultimi 15 anni la zona è andata molto al degrado, purtroppo. Sono state fatte tante battaglie, sia da nuovi commercianti, sia dall'associazione insieme per San Lorenzo. Riguardo al traffico, praticamente tutto il giorno c'è la coda per arrivare alla stazione è praticamente l'unica strada che porta poi al parcheggio della stazione. La coda è continua, non riusciamo mai a stare a porta aperta, tanto a cattonaggio, tanti estracomunitari che non hanno lavoro e che disturbano anche i clienti che ci sono per strada. Non è solo un problema di via nazionale e il degrado si sta allargando un po' in tutto il centro di Firenze. È nota la situazione che c'è la sera in Santa Croce, è nota la situazione che c'è anche in Santo Spirito. Non c'è mai un riscontro, non c'è mai un interesse da parte di chi deve controllare e di chi ha la possibilità di poter risolvere non tutto, ma in parte rendere vivibile il centro storico di Firenze, il patrimonio dell'UNESCO. La chiusura mi diceva avverrà prossimo martedì? Sì, esatto, questo ne qualche giorno. Un appello alle istituzioni? No, non mi sento più neanche di fare nessun tipo di appello perché sono troppi anni che Firenze è abbandonata a se stessa. Mi piange il cuore da fiorentino, però sono anche stanco di pregare le persone e le istituzioni di poter fare qualcosa. La chiusura nostra io spero che possa dare una scossa a qualcosa, ma io non sono ottimista.